5% danno o 7500 potere? Ah boh, questa sarà da decreta 10.000 potere? Sì, secondo me Meglio 4.000 di controllo 10.000 di controllo Vai Aspettate Artis Un pollo, no, scherzato Se mi critasse qualcosa, zio santo Niente, non clicco un cazzo Ok, centro Artis Un pollo Cazzo ossa, vabbè, niente, io-io lag. Fermi. Rapsion. Kipa. Nande. Custer Master Bolz. E Artis la palla dietro, fuji? La palla, la palla, la palla, fuji? No. Artis, Artis, cioè... Ah, cazzo, catena. Vai Artis. State, 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 state per la cura. Ghiacci, vicino alla porta. Io sì. Qualcuno si ospecca... Si, rompe... Si è rotto, si è rotto, si è rotto. No, vai Pucci. C'è la defetermia, non ho spiltato col bant. Vedete, che si è pigliato con il salto da Bacchic. No, vai Pucci. No, vai Pucci. Oio, vai Pucci. Oh, f**k. Ok, vai Pucci. Artis, ragazzi. Sì, non ce la fa. Scerate, sceramo, sceramoci tutti in là, tutti qua con Nama. Dove sei Nama? Nama! Ghiacci, ghiacci, vicini. Mi ti accingula di nuovo, poi ghiacci. Puoi giro tutto nelle mani tue. Ah no, ci sono due. Scusate, lo del là. Scusate, ma c'è un po' di nuovo! Ghiacci. Vai, 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 vai. Ok, ha passato. Artis. Guarda lei lì, c'è un po' di nuovo. Spread. Spread. A 5. Ce la fai a lasciarci l'agro? Dopo sta palla non attaccare. Un attaccare in mezzo, ragazzi. Pasa. Vai, dip. Dip. No. 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 Vai, vai, pass. No. No. Sì, io ce l'ho Aspettate, più metti, ragazzi 3, 2, 1, vamos Aspettate, più metti, ragazzi No, 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 no Grazie a tutti. Centro. Affassato. No, 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 fermi, fermo, 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 fermo. No, no. No, milagra, cazzo, perché buona ecco a voi, Artis? Sì Che lagga, cazzo Sciaramo intanto Il DPS da là Ok, subito là vicino Dov'è il danno? Cazzo Sì 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 Sì